Dalla carta geomorfologica dell'area all'analisi del rischio incendi, individuando i siti di interesse generale con attenzione al patrimonio geologico, presentate le attività di ricerca realizzate nell'ambito dell'accordo di programma tra l'ente parco regionale del Taburno Camposauro, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi del Sagno. Un importante lavoro per la tutela e valorizzazione dell'area protetta anche in vista della candidatura UNESCO. Per la prima volta gli output che verranno presentati sono anche delle carte tematiche come quella geomorfologica, quella della vegetazione, del geoturismo, che non erano mai state fatte prima. Poi queste carte potranno essere utilizzate sia per redigere il famoso piano del parco e sia anche per poter aiutare gli stessi comuni, ma anche tutti gli altri stakeholders presenti sul territorio, ad avere un quadro molto più chiaro, ovviamente tecnico-scientifico, su cui potersi muovere. È un primo passo anche in vista della candidatura UNESCO. Uno studio dunque che consente di conoscere al meglio il parco e le sue caratteristiche. Il risultato più significativo è quello di mettere insieme a sistema un patrimonio di conoscenze che negli anni si è accumulato e finalizzato per quelle che poi sono anche le necessità conoscitive del parco. E il direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie assicura. Quando poi ci sono i parchi naturali che vanno valorizzati, che vanno preservati, che vanno in qualche modo aiutati anche nella gestione, il nostro Dipartimento è sempre disponibile. Grazie. Grazie. Grazie.